Ciao ragazze, ecco un'altra mia nail art. Ho usato lo smalto che dà l'effetto graffiti di colore rosso. Non ho utilizzato quello della Laya, ma della Jolie, più economico ed è molto molto semplice da stendere. Come base ho applicato uno smalto bianco perlato, ho aspettato che si asciugasse e poi dopo ho dato una passata di questo smalto effetto graffiti. L'effetto è molto molto bello, ve lo garantisco, è molto semplice e rapida, dura tantissimo sulle unghie. Questo è l'effetto, spero vi piaccia, vi saluto e alla mia prossima nail art. Ciao!